Allora, Liberi TV, Riccardo Cristiano, siamo a Piazza Prefettura, a Catanzaro, sotto la sede delle poste, siamo in compagnia di Dario Filice, che è il segretario provinciale dell'SLP di Cosenza. Perché è importante essere qui oggi? È importantissimo essere qui. Secondo me la cosa più importante oggi è sensibilizzare le istituzioni, la popolazione, di cosa sta succedendo in poste italiane, di cosa sta facendo questo governo per posti italiani. Ma quello che sta avvenendo è praticamente la privatizzazione, ma ci sono anche delle azioni che stanno avvenendo da parte di poste, come per esempio per quanto riguarda il recapito, diciamo il recapito a giorni alterni, o anche la job rotation si parlava, il non passaggio a full time degli sportellisti, alcuni sportellisti part time. Insomma sul mercato, sul campo in questo momento ci sono tante tante azioni che comunque l'SLP CISL sta seguendo. Sì, stiamo cercando di contrastare, ma purtroppo questa è un'azienda che oramai secondo me è nel pallone, è nella massima confusione. La riorganizzazione del recapito e i giorni alterni si sono dimostrati come si sta constatando un fallimento assoluto, un vero flop. E questo sta creando non pochi problemi, non solo agli addetti ai lavori, ma ai cittadini. Agli addetti ai lavori perché sono pressati, sono veramente, molti portarietti stanno lasciando il campo, guarda non ho mai visto una cosa del genere. Quindi diciamo anche dal lato umano vediamo praticamente delle persone che non ce la fanno più. Non ce la fanno e non riusciamo, cioè non ce la fanno ed è costatabile che non è possibile perché lo dimostrano le liquindali di Giacenza, fermi negli uffici e le lamentere dei cittadini che non ricevono la corrispondenza. Questo è stato proprio veramente. La cittadina in questo momento non solo qui sta sbagliando e sta andando avanti e non si è resa conto che bisogna bloccare e forse rivedere un po' tutte le cose, ma anche decisioni come la job rotation, gli avvicinamenti che sta attuando sono veramente un po' unilaterali e sono discriminatori. Il problema è anche dei part time, in questa regione ce ne sono tantissimi part time e secondo me vista la carenza che c'è negli sportelli e sui mercati privati non vedo perché questi ragazzi devono essere penalizzati. Quindi continuate a manifestare qui, poi ho sentito dire che forse ci sarà una manifestazione nazionale anche a Roma con tutte le sigle sindacali come anche qui oggi, quindi ci si vede a Roma? Ma io spero che si risolva prima la questione, che riusciamo a evitare questo, ma penso che questo lavoro nostro che stiamo facendo di fare assemblee sui posti di lavoro, di fare queste manifestazioni pubbliche per sensibilizzare e preparare probabilmente una grande manifestazione che ci porterà tutti a Roma, io penso che andremo in marzo perché i lavoratori sono convinti più che mai di questa battaglia, di questa guerra che sto facendo. Perfetto, buone manifestazioni. Grazie.